Il fatto di essere partner non è più una scelta, ormai è una condizione per lavorare con degli investitori. Ciò dicevano nei paneli precedenti, gli investimenti in Italia sono il 99% fatti da investitori stranieri. E gli investitori stranieri hanno bisogno di soggetti, dei provider, che abbiano sicuramente competenze e che li affiancano nella scelta del loro investimento, nella valorizzazione del loro investimento e anche nella valutazione del loro investimento. Quindi il fatto di essere un partner e non un fornitore, che poi è anche molto diminutivo del valore che il provider può dare, perché poi l'investitore mette dei cash, dei soldi per gli immobili, ma se l'immobile non viene gestita e valorizzata appunto l'investimento tende appunto a deperire e non appunto a crescere. Quindi è una condizione di fatto, anzi qualsiasi azienda, qualsiasi provider alla fine deve e a buon, a buon, a buon grado fare appunto essere un partner investitore. Ovviamente essere partner ti porta appunto a vedere, ti responsabilizza molto di più perché comunque l'investitore chiede delle competenze, ma noi siamo c'è degli servizi, lo dico spesso, non produciamo nulla, non vendiamo prodotti tangibili, vendiamo servizi e quindi competenze.